Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma adesso ci sono due chilometri di coda in diminuzione per un incidente adesso risolto al chilometro 337 tra incisa Reggello e Valdarno. In direzione Bologna, code per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Spostandoci in A12, possibili disagi per un incidente al chilometro 112 tra Carrara e Massa in direzione Rosignano. Spostandoci sulla Fipilè, rallentamenti per lavori tra la Strassigna e Montelupo-Fiorentino in direzione Livorno. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Grazie e buon viaggio!